Lo stimolo che ha voluto dare a tutti noi la Fondazione Comasca è quello di riflettere insieme sul domani che vogliamo dare ai nostri figli, un altro domani, quindi una decisa volontà di cambiamento e con noi questa sera Silvio Sordini. Dalla fine è venuta fuori una cosa che cerca di capire che cosa c'è sotto la punta di quell'iceberg che tutti conosciamo, sotto tra le persone che si occupano di questo problema, le vittime e gli autori di violenza eccetera, c'è tanto da scoprire. A volte io ho quasi sperato che mi facesse del male fisico perché almeno era dimostrabile. Alcuni mi hanno detto proprio che quando sono arrivati in contatto con un psicologo per la prima volta, si sono resi conto che non avevano mai parlato di se stessi a nessuno. Mi sono rimasti molto colpiti del fatto che ci fosse qualcuno che li ascoltasse. Tu puoi arrivare a prendere coscienza solo dal confronto e un film come questo, una sala come questa sono secondo me essenziali per questo tipo di percorso. Grazie Silvio, veramente ci è dato tanto. Grazie a tutti.